Un intero quartiere storico di Teramo, Santa Maria Bitetto, è ferito a morte da anni dal grande, stabile, fatiscente e diroccato che occupa parte di Via Muzzi e Piazzetta Paris, proprio a ridosso del Teatro Romano. I proprietari della vasta area, che crolla ogni giorno un po', sembrano essere del tutto indifferenti alle ordinanze di messa in sicurezza che, con cadenza annuale, i vari sindaci hanno emesso nei loro confronti. Dopo quella di Brucchi nel 2017, del commissario prefettizio Pizzi nel 2018, un mese fa è arrivata quella del primo cittadino Gianguido d'Alberto. La proprietà rischia gravi sanzioni penali, eppure la situazione resta invariata, nessuna pena viene inflitta e i residenti si sentono disperati per l'impotenza di intervenire. È passato un mese dall'ordinanza del sindaco, la proprietà non ha messo in sicurezza l'immobile, voi ci vivete accanto e siete esasperati. È vero, l'ultima ordinanza del sindaco aveva dato ordine alla bufera di mettere in sicurezza l'edificio, di ripulirlo, di tagliare l'erba per 20 giorni, è passato 25 giorni un mese e non è successo nulla. Qui non è questione nell'ordinanza di mettere in sicurezza o di tagliare l'erba o di ripulire la strada, qui è questione di demolire l'edificio. Ma la proprietà non fa nemmeno questo, figuriamoci se demolisce. La proprietà non fa nulla di tutto questo. Ma che cosa chiedete nuovamente al sindaco? Noi chiediamo al sindaco di prendere veramente in mano la situazione, uno perché è una situazione di degrado, uno scempio direi, al centro di Teramo, vicino all'anfiteatro. E in più la situazione è veramente pericolosa per noi residenti vicino perché può crollare da un momento all'altro. Quanti anni sono che vivete in questa situazione? Beh, saranno un paio d'anni. A maggior ragione prima hanno riaperto le strade, poi le hanno richiuse, ce le hanno richiuse nuovamente. In più noi, per esempio io che abito qui vicino, ho anche dei fondaci e non posso accedere al mio fondaco perché la strada è chiusa. Ma oltre quello sta per crollare una crondaia, di sera si sentono i mattoni che cadono, la situazione è veramente imbarazzante.